I finanzieri dei comandi provinciali della Guardia di Finanza di Bologna e di Rimini hanno confiscato immobili, quote societari, rapporti bancari e compendi aziendali di conducibili a tre società ubicate tra le province di Rimini, Pesaro Urbino e Napoli, del valore di 700.000 euro. I beni confiscati già sottoposti a sequestro ad aprile dello scorso anno erano nella disponibilità di un uomo classe 60 nato a Giuliano in Campania, Napoli, soggetto socialmente pericoloso considerato una figura di spicco nel panorama criminale della riviera romagnola e in particolare delle province di Pesaro e Rimini, gravato da numerosi precedenti penali quali bancarotta fraudolenta, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, abusivo esercizio di attività finanziarie, violazioni penal tributarie e riciclaggio. Il provvedimento ablativo, finalizzato al recupero di beni illecitamente detenuti, rappresenta l'epilogo di articolate indagini economico-patrimoniali condotte dalle fiamme gialle dei nuclei di polizia economico-finanziera di Bologna e Rimini, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. Gli accertamenti hanno consentito di acclarare la pericolosità sociale del proposto attraverso la ricostruzione tanto dal suo curriculum criminale quanto degli stretti legami intessuti nel tempo con ambienti della criminalità organizzata campana e in particolare con il clan dei Mallardo, come emerso anche dalle dichiarazioni rese ad un collaboratore di giustizia. Le investigazioni patrimoniali hanno così permesso di accertare una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati dal soggetto e dal proprio nucleo familiare e il patrimonio mobiliare e immobiliare della sua effettiva disponibilità. L'eccedenza è stata quindi sottoposta a confisca in quanto ritenuta il frutto di molteplici attività illecite.